oggi vi propongo un piatto estivo profumato facile da fare andrò a fare un pochè quindi base a riso con del polpo arrostito mango lime e varie verdure la prima cosa che ovviamente vado a fare è arrostire il polpo io il riso l'ho già cotto semplicemente peso del riso do più dell'acqua finché non se la sorbe tutta quante poi lasciamo riposare quindi una padella aggiungo dell'olio extravergine di oliva padella calda prende tentacoli non vado a salarli perché comunque sono già stati di loro e vado da arrostirli quando inizio a prendere questo bel colore ambrato possiamo tirarli via dalla padella prima di andare a tagliarli li faccio raffreddare un attimo nel frattempo preparo il resto degli ingredienti quindi il mango ricavo la parte che mi interessa vado a tagliare in molto sottile prendo una placchetta aggiungo il mango lo stessa vado ad aggiungere anche dei ravanelli tengo anche le foglie che sono commestibili li taglio in quattro li vado a condire con una buccia e succo di lime queste tengo la parte prendo i tentacoli li taglio a tocchetti in modo che sia anche pratico nel mangiarlo perfetto a questo punto tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento iniziamo impiattare ovviamente ogni pochè sulla base c'è sempre la parte di riso cerchiamo di lasciare leggermente più alti bordi in modo che ci aiuti anche ad appoggiare gli altri ingredienti a questo punto insieme a mettere gli altri ingredienti partiamo dal polpo andiamo a girare e posizioniamo anche il mango la firavanelli con tutte le foglie della rucola poi andiamo a terminare con del sesamo della soia e del peperoncino andiamo a bagnare sia il polpo che il riso con la soia aggiungiamo il sesamo e in ultimo del peperoncino ecco qui veloce facile profumato estivo provateci alla prossima e buon appetito